L'ambulanza lo stava portando a fare la dialisi in ospedale all'infermi quando ha estratto un coltello e ha minacciato l'autista di tagliare la gola. Protagonista della vicenda, un 53enne di origini pugliesi ma residente nel riminese, noto per le sue ripetute aggressioni al personale. L'uomo che ha pregressi problemi di tossicodipendenza e alcuni precedenti penali viene solitamente prelevato a casa dal personale sanitario del servizio Romagna 118 trasporti secondari per essere trasportato al reparto di dialisi dell'infermi. Molte le lamentele arrivate alle orecchie dei sanitari ma nessuno si aspettava che il 53enne arrivasse a tanto. Questa volta la scintilla è arrivata da una sigaretta durante il trasporto in ambulanza. L'uomo ha chiesto di fumare, circostanza vietata dai regolamenti e dai protocolli aziendali. Quasi certamente più una provocazione che una necessità impellente. L'operatore sanitario gli ha quindi risposto che non era possibile e lui è iniziato a invegli contro senza fare tanti complimenti. Offese e minaccia alle quali l'autista del 118 non ha però risposto. Anzi ha tentato di tranquillizzarlo ma l'altro si è scatenato ancora di più. Quindi dalle parole è passato in breve e le vie di fatto aggredendolo e strappandogli la mascherina che indossava slacciandosi le cinture di sicurezza tanto da costringere l'autista ad arrestare in mezzo e ha proseguito nella sua azione anche una volta giunti in ospedale minacciando con un coltello di voler tagliare la gola all'operatore già aggredito in ambulanza mentre lo stava accompagnando nel tragitto. A fermare il 53 ne è intervenuto il personale della polizia di Stato in servizio all'ospedale infermi. L'uomo è stato denunciato per violenza e minaccia pubblico ufficiale, interruzione di un servizio pubblico e porto abusivo di oggetti atti ad offendere con l'aggravante della recidiva di aver agito contro operatori sanitari.